ci parte la prende il nostro luci francesco da francesco vantaggio uno contro zero del nostro avanti disco vici che arriva davanti alla porta e mette in rete la palla qua là dentro per uscire a golla a daniel che tira a rimbalzare basso e fa golle a mirarchi che proverà sicuramente il tiro e lo trova questa scena tre spari è caduta bella la palla è assata in disposizione dei tecnici francesco da pallucci francesco davanti alla porta la mette no sopra la testa la palla entra un povillo mancherà pochi secondi palla uno va a tirare sul lungo da andrà tartaro a tutto il portiere scusate le volte rimango senza parole perché guardo l'azione di siano la possibilità davanti alla porta uno diamano tutti uno e uno da posizione e uno da mette va a tirare e fa gol la palla di scuola gol bravo molto puoi tirare 1 a 4 torna a 3 ma non benissimo e gol la palla di scuola e gol la palla di scuola altra prova la partita tesissima